Si parla tanto di disbiosi, che cos'è dottoressa Corego? È un argomento molto attuale, come si usa dire, molto trendy. La disbiosi è tutto, è tutto quello, tutti quei sintomi, diciamo così, se vogliamo dare una definizione un po' clinica, che sono legati al gastroenterico, quindi non solo la digestione, ma soprattutto l'intestino e anche, perché no, il nostro umore, il sonno e tutto quello che è legato all'intestino. Adesso ormai si parla di microbioma, microbiota, perché abbiamo scoperto che il microbioma è un sistema, è un apparato, come l'apparato digerente, anche il microbioma vive e lavora soprattutto nell'intestino, ma la grande scoperta, che io trovo meraviglioso, è che si connette col cervello, si connette con tutti gli altri organi. E allora che fare? Partire sempre dall'intestino, ovviamente, perché l'intestino, quello che una volta definivamo colitico, è un intestino che a volte dà stipsi e quindi si fa fatica a scaricare, e l'intestino che invece dà diarrea. Diciamo, cominciamo col più semplice, l'intestino che dà diarrea, dà feci scomposte, oppure dà delle scariche diaroiche molto importanti, che sono prevalentemente legate al cibo, a quello che assumiamo. In realtà non si tratta solo di, come dire, allergie, intolleranze, ma tutte le allergie, la maggior parte, ecco, di allergie e intolleranze, sono delle overdose, cioè noi ci nutriamo troppo di grano, ci nutriamo troppo di solanacee, che sono pomodori, peperoni, melanzane, patate, ci nutriamo troppo con alimenti pieni di lievito, lievito di birra che ci gonfia la pancia. Quindi pancia gonfia, aria nella pancia e colite o stipsi. Io chiedo sempre ai miei pazienti se vanno tutte le mattine in bagno, se scaricano bene, se, per usare un termine un po' puerile, se la cacca è bella. Perché? Perché è molto importante che l'intestino scarichi bene e che ci sia un certo ritmo, perché altrimenti si creano quelle situazioni di scompenso, per cui non ci si sente, guarda caso, non solo la pancia libera, ma anche la testa libera. Io che pratico idrocolon da tanti anni, ho due o tre pazienti che scrivono, che mi dicono che dopo l'idrocolon hanno la testa libera, vanno a casa e scrivono. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se ci liberiamo l'intestino, liberiamo la testa. E allora come facciamo? Innanzitutto pochissimo uso di lassativi, proprio la suppostina, la perettina, cerchiamo di usarla solo nei casi estremi, cioè proprio quando non scarichiamo e quindi la usiamo. Perché? Perché la peretta, la supposta, soprattutto se la supposta è glicerina, comunque ci liberano solo l'ultima parte dell'ampolla rettale e quindi danno un po' di scarica, ma non liberano tutto l'intestino. Quindi dobbiamo partire dall'alto, dobbiamo partire da un bel probiotico, quindi un axidofilus, un bifido, un rhamnosus, cioè ormai queste parole sono sulla bocca di tutti, però devono essere quelli che chiamavamo insomma i fermenti lattici, però curati, catalogati. Grazie a Dio basta leggere le etichette e quindi orientarsi sempre su un bifidus. Pensate all'importanza del bifidus. Anche il bambino, il bambino che è allattato al seno, ha bisogno di un bifido, perché se la madre ha una flora intestinale di un certo tipo, anche il bambino ce l'avrà di un certo tipo. Da qui per esempio l'importanza della nascita naturale. Perché? Perché nella nascita naturale il bambino ha il passaggio nel canale vaginale e quindi si impregna del microbioma della madre e quindi nasce già con una sua mappatura. Una volta si pensava che il bambino nascesse senza un microbioma, senza in realtà invece non è così. Quindi mentre nel cesareo ovviamente questo passaggio non c'è, quindi colpevolizziamo sempre le povere madri. Ma prendendo quindi tutte le mattine un probiotico, si può risolvere il problema? Sì, ma direi di sì, ci si può aiutare. Sicuramente si fa diciamo il 50%, un buon probiotico, un bifido, un acidofilus. Poi però anche l'alimentazione ha la sua importanza. Ricordarsi sempre, come si diceva poc'anzi, che la proteina, quindi che so, la carne o il pesce o le uova, vanno sempre vicine al vegetale e perché dobbiamo fare un buon equilibrio indifferente. L'importante è masticarle bene, cioè scegliamo la verdura che più ci aggrada rispettando ovviamente le stagioni e poi masticare, masticare come diceva il mio mentor, Iroa Micinia, col quale abbiamo redato quel bellissimo libro sull'intestino, insomma sulle diete e sulla disbiosi, bisognerebbe masticare almeno dalle 20 alle 30 volte. Provate a contare quante volte mastichiamo e vi renderete conto che. Quindi la prima, lo dicevano del resto anche i romani, insomma, nella digestione, nella bocca sta la prima digestione. Grazie dottoressa. Niente. Grazie. 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 Grazie.